Grazie, siamo felici di essere qui per la seconda volta. Questo Sette contro Tepe lo abbiamo fatto dopo Antigone, in realtà prima verrebbe Sette contro Tepe perché si parla della guerra e poi di Antigone che parla della scelta di seppellire o meno. Volevo dire che il teatro ha questa potenza, ci parla in questo caso della guerra. Una parola che negli ultimi anni ha perso di valore, la sentiamo nominare troppo spesso e sappiamo, vediamo attraverso le immagini la guerra, ci stiamo abituando questa parola che significa la guerra, è normale, è entrata nella nostra quotidianità. Ebbene i testi così che vengono da lontano e che usano le parole, la forza delle parole che stiamo dimenticando, stiamo semplificando, stiamo perdendo le parole, ne usiamo di meno e quindi semplifichiamo il pensiero. Invece il pensiero è fatto di tante parole ed è un pensiero complesso. E dunque il teatro ci consente di nuovo di riacquistare i significati e ci riporta a riflettere anche su qualcosa che viene da molto lontano e troppo lontano da noi. Eppure attraverso questo noi possiamo ripensare, capire che cos'è la guerra, l'assedio, la paura della guerra e che nessuno mai vince nella guerra. Grazie. Sì, è la seconda tragedia che rappresentiamo, fa parte delle due tragedie nel cartellone del teatro classico, dopo verranno gli spettacoli del mito. E sull'elmo li fanno da criniera e sotto lo scudo sonagli di bronzo, suonano e chiamano il terrore. Questa insegna arrogante porta sullo scudo un cielo tutto assolistico. Questo è il teatro classico a cui teniamo molto perché è un prodotto che vogliamo poi proporre ai turisti e quindi cercare di creare delle situazioni che consentono anche una programmazione, così come avviene in altre destinazioni turistiche, al fine di incrementare la permanenza media. Ma devo dire che nel cartellone generale della stagione abbiamo già degli spettacoli sold out e valutiamo già di fare delle repliche prossimamente. I prossimi begni abbiamo sabato sera il rappimento di Proserpina e contiamo che il teatro sia sempre pieno e diciamo anche questa è una produzione interessante perché è una coproduzione del teatro dell'Efeb. Ho perso mia madre due settimane fa. No, questo è importante perché nella vita bisogna sempre portare amore e portare storie straordinarie, quelle che mi ha sempre raccontato mia madre. e oggi è importante far capire a tutti e a ognuno di voi quanto è importante continuare a raccontare storie straordinarie alle persone che si ama. E noi lo facciamo per voi e lo facciamo anche per noi, però è essenziale e oggi l'ho capito ancora di più quanto è fondamentale amare e portare l'amore sempre. scusate, ci tengo a dirlo perché d'ora in avanti credo che la mia vita cambierà e la mia carriera cambierà, però è essenziale continuare a raccontare storie belle perché c'è bisogno di felicità, c'è bisogno di portare la gioia nel mondo e questo è fondamentale. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti.